La città centrale e diretto a Sostri Levante è in arrivo al binario 1, ferma su tutte le località. La città è la città in Montorosso, e siamo stocchi in Farnasio, perché non c'è un'altra 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 un'altra. La città è 4.24, la città è 4.30. La città è 4.30. La città è 4.30. La città è 4.30. La città è 5.30. La città è 5.50. Ha vissera la macchina? Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.